. . Assieme al cast di Mediterraneo e al regista Gabriele Salvatore, hanno sollevato la statuina più ambita al mondo, l'Oscar, per quel film che fu dichiarato miglior lungometraggio straniero in concorso, assieme a Visio un cast un po' collina credibile, nel quale incontriamo Renato Pozzetto, Ornella Danone, Frank Matano e Valentino Modovino, ma ecco a voi la trama del film e il dettaglio, ma che bella sorpresa, la trama del film. Anna Lascia Guido, il suo fidanzato, per amore di un altro uomo per il quale, già durante le fasi dell'ardino, è rimasta incinta, una situazione surreale con il povero Guido per l'altro recentemente in trasferimento da Milano a Napoli, una situazione comune per tanti insegnanti precari. Anna lo lascia per maschi per belga, una classica situazione nella quale veloce professionale incide nei sentimenti, il bel marinaio contro il povero professore. Ma Guido comunque accetta la situazione e si trasferisce nella città di Cucinella, lo supportano, tentando di tenerli sui morali, l'amico e collega Paolo, un ex allungo, e Carla e Giovanni, i suoi genitori, vicino di casa di Guido la bellissima Silvia che del professore si innamora quasi subito, Silvia e tutto ciò che piace a Guido. Grazie a tutti.